primo anno di stock europeo com'ha andato mille? Prima stock europeo è andato molto bene nel senso che io mi ricordo che alla prima gara ad aragon appunto io il mille l'avevo provato tipo tre volte ed ero in griglia ad aragon e non chiedermi come ho fatto perché in realtà sono una frana in partenza al primo giro io ero primo in testa alla corsa questa è una roba fantasciente capito perché io facevo le robe e non sapevo cosa stavo facendo perché da una parte andavo forte ma d'altra parte non avevo veramente la conoscenza di quello che stavo facendo di fatti primo giro crash in realtà questa è stata una stagione per me super positiva perché ho fatto 5-6 gare subito un po' di oborno a manicure tutta la gara davanti ho fatto tante gare veloce però due cose mancavano non era un po' di esperienza da gestire la gara tre anzi una era la conoscenza tecnica di quello che stavo facendo in realtà andava un po' la speranza e la terza cosa era l'allenamento fisico perché sembra una cavolata però adesso sono un atleta mi alleno sempre eccetera ormai sono anni che lo faccio lì in realtà ero un ragazzino ancora che dalla moto 3 sale sul mille e va a fare la stock mille con gente che lo fa da una vita loro mi tiravano il collo io facevo 5-6 giri tutto gas e poi dovevo tirare in barca male le braccia male a tutto che non mi c'erano forti c'erano forti c'erano tanti tamburini reiterberger che ha vinto uno che a me piaceva un sacco era shaib che aveva un gran talento secondo me marino cioè tanti nomi grossi c'erano già e reiterberger già ex superbike quindi gente comunque bella che pestava dentro bella che pestava e quindi era una bella categoria a me mi ha dato tanto ecco un'altra sfortuna che ho avuto è che per me quella categoria era oro perché correvi sul mille con delle moto stock in giro per l'europa e quello era perfetto per fare esperienza io lo faccio a fine anno ritirano la categoria qui è stato il mio primo e ultimo anno è stock mille perché poi la categoria l'hanno tolta e quello è stato veramente un grande peccato quindi 2017 2018 16 wildcard moto 3 e correvo con il suo primo tarte 17 moto 3 con max biaggi 18 stock mille ritirano la categoria e a quel punto cosa cosa fai cosa ti inventi ritirano la categoria e in quel momento mi invento di fare cosa faccio cosa non faccio io ero nel team altea con con genesio genesio ha sempre avuto queste idee da prendiamo un pilota lo lanciamo proviamo a fare qualcosa io con un break house uno sponsor qua della zona che si era appassionato un po la causa avevo trovato quindi uno sponsor e e beh sai cosa facciamo un team superbike purtroppo poi in realtà le cose non sono andate come mondiale 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 superbike le cose non sono andate come come speravamo in che termini i termini sempre all'inizio con un progetto come ti dicevo prima ti dicevo quando firmi tutti contenti poi in realtà la moto non era proprio la moto che che immaginavamo tutti non so dirti bene male per quale motivo meno con onda che 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 rapporto c'era ancora eravamo un team privato non era un team supportato genesio poi aveva già un altro team sempre quell'anno aveva due team uno con chionari e leon camier che era il team ufficiale e poi c'era il mio team piccolino con altri colori il punto è che già le loro moto facevano fatica che erano quelle ufficiali ed era un momento che la onda doveva presentare la moto nuova era moto vecchia in più noi avevamo proprio cioè considera che ancora ci guardo a volte prima di dormire e parliamo di robe proprio da amatori l'anno prima con la bmw che era il mio primo anno di mille la stessa moto la stock mille andava 10 barra 15 km più veloce della moto utilizzato l'anno dopo quindi ho fatto proprio una stagione un po difficile ecco in tutti i sensi però dall'altro dall'altra parte è stata una stagione super piacevole perché di solito quante volte è successo che c'è un pilota che fa il mondiale superbike e fa ultimo quante volte va uno e fa ultimo sempre ultimo 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 in realtà io facevo ultimo poi bagnato secondo ultimo bagnato terzo ultimo condizione difficile secondo ho fatto non uno non due tipo 3 4 5 turni nei primi tre ibola donnington park sono tanti tu argentina tanti turni davanti e allora dicevo cavolo ma misano partivo ultimo ero quinto in gara hai capito quindi è vero che è stata una stagione orribile sotto tanti punti di vista a volte facevo ultimissimo proprio che quasi mi doppiavano e altre volte invece ero lì davanti quindi quando eri lì davanti non con gli altri team o gli altri addetti del settore non c'era mai modo di parlarci o come no come no come no anzi venivi riconosciuto cioè ti veniva riconosciuto a questa cosa come no come no devo dirti che ci sembra stato molto rispetto in queste cose nel senso che quando ho fatto dei bei risultati mezzo inferiore o meno nel senso comunque uno prende e non parliamo di coppa del nonno parli di mondiale superbike ti presenti e ti giochi una super pole come a donna in tono con gianna tarria eravamo io e lui che abbassavamo i tempi e dopo il turno in tanti mi hanno fatto i complimenti giustamente capito perché potevo avere anche la moto migliore di tutte però comunque ero lì hai capito ma complimenti a parte cioè tipo gli uomini onda sì sì però guarda essere sincero sì ma niente di eclatante sì ma niente di eclatante a fine di quell'anno ed è una cosa che ti è pesata questa qui oppure sai mi è pesato perché dico cavolo avessi fatto sempre ultimo capisco il dover abbandonare superbike però ho fatto sia volte ultimo per colpa mia o non mia comunque fatto ultimo punto però poi tante altre volte invece ero davanti cioè quindi dico cavolo proviamo a vedere dove si può arrivare magari con un secondo anno bagnaia quest'anno ha vinto mondiale superbike e mondiale scusami moto gp il primo anno di moto gp ha fatto un po fatica anche in moto 3 i primi anni ha fatto fatica ok quindi dico ero in superbike il primo anno ovviamente non per paragonare bagnaia però per dire che tutti comunque devono fare una curva di apprendimento comunque qualcosa avevo dimostrato che potevo esserci perciò mi dispiace di aver avuto un'opportunità ecco non un'opportunità di salire sulla moto campione del mondo però di rimanere un altro anno ma non c'è stato proprio nessuna possibilità cioè non ti finito quella stagione lì con quel team lì guarda non c'è stato neanche farti provare una moto poi dopo del budget se ne parlava non è proprio così lì praticamente quando fai il mondiale devi prima firmare poi provi non è che prima provi poi firmi cioè come a prescindere dai risultati esatto prima di firmare e poi vai provare la moto ho avuto qualche contatto qualche conoscenza qualche contatto per fare ho fatto qualche chiacchia con qualche team specialmente con moriwaki però poi non sono riuscito a mettere in porto niente e sono dovuto tornare italiano primo test con tutti i team del mondiale prima curro primo giro con gli altri che vedevi dalla tv come primo test non è stato c'è primo test ho vissuto abbastanza normale in realtà quello che ho vissuto veramente malissimo ma male 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 è stata la prima gara in australia perché vista che non conoscevi ovvio solo al playstation l'avevo vista perché tre anni prima correvo con il super motarde e lavoravo da mio babbo e tre anni dopo ero in griglia al mondiale super bike e davanti a me vedevo tutta la griglia mondiale super bike non è che ero solamente in griglia al mondiale super bike ero in australia a un giorno di distanza da casa mia per fare una gara in moto fantascienza proprio cioè come sta il primo turno primo giro quanto tempo ti c'è voluto per acclimatarti no non è bastato cioè ecco quella è stata una cosa che mi ha pesato troppo presto sotto per me perché io andavo lì dovevo andarci con l'idea di amen chi c'è c'è devo andare lì per fare il meglio in realtà ero un appassionato ancora cioè ero l'ingriglia ma ero il primo appassionato di quello che stavo facendo cioè la tua impostazione mentale non era pronto non ero pronto ancora a distanza dopo quest'anno ho fatto una wild card l'anno scorso un'altra arrogante una morigua una con la honda a most e una misano con la kawasaki e invece lì ero andato per fare la wild card un approccio mentale totalmente diverso al contrario in australia il primo anno che ho fatto la mondiale super bike ero canguri in australia c'era ero felice ma dicevi che cazzo ci sto qua si è mi domandava ma cosa faccio qui capito cosa sto facendo qua capito gli alieni tipo ria e gli altri che erano lì cioè quando vedono un pilota nuovo come te che purgatorio turno secondo ma allora devo dirti probabilmente se fosse arrivato primo turno secondo mi avrebbero trattato in modo diverso in realtà mi ricordo un sacco di sorpassi incazzati proprio per farmi capire stai il tuo posto i primi giorni si testi invernali filippa non sapevano che no appunto per quello mi incontravano cosa so tipo il posto rettilineo al posto di fare la staccata e andare dentro staccavano mi stringevano verso l'erba e capito in tanti o tutti cioè sorpassi per farti dire rilassati hai capito questo me lo ricordo e poi invece quando comunque hanno visto che era una stagione difficile considera poi in australia avevo il serbatoio da endurance sulla moto quindi proprio era una moto che non era proprio adatta per fare quella gara lì in quel momento e quindi sicuramente non sono stupidi si sono resi conto tutti un po delle difficoltà che potevo avere quando poi ho iniziato a fare qualche bel risultato tutti mi hanno fatto sempre i complimenti sia nel paddock quando mi hanno incontrato che su instagram il messaggino e sei guadagnato il rispetto sì ovviamente magari un rispetto marginale però tra nonismo e poi dopo il momento più bello di questa stagione lì qual è stato è stato nessuno in realtà nel senso che anche se ho fatto dei bei turni quelle volte sai quando imo la gara italiana ho finito il turno terzo cioè mi sentivo una rockstar e le tribune tutte per me grande applauso ho fatto la corsia dei box tutti che mi hanno fatto un applauso bellissimo hai capito però se devo essere sincero non è stato comunque bello perché io avrei voluto fare tutt'altro cioè facendo un bilancio cioè capito non non posso ricordarmi di quella stagione con nonostante qualche bel risultato hai capito tornarsi indietro lo rifaresti difficile da una parte no per come è andata a finire dall'altra parte probabilmente se non avessi fatto non sarei qua adesso probabilmente se non avessi fatto quel numero donnington se non avessi corso per l'altea non ora non avrei magari questo nome non avrei questo background hai tirato fuori la vicenda di donnington cosa cos'è che ti ha dato quella cosa lì notorietà notorietà semplicemente semplicemente da essere un pilota di nicchia uno dei tanti piloti sei un pilota che ha fatto un gesto tecnico importante e quindi comunque ti dà conoscenza probabilmente in probabilmente ora in qualsiasi bar di appassionati motociclisti sanno chi è del bianco anche grazie a quella cosa lì e come l'hai spesa quella cosa lì quella notorietà lì cioè è spendibile per te sì cioè in realtà la sto ancora spendendo ecco una roba che una cosa che voglio dirti che è questo io sono sempre sincero anche davanti ai telecamere davanti a tutti quando devo dire qualcosa dico sempre cose come stanno questa cosa a me sta pagando nel senso che non ho mai avuto e neanche adesso ho del budget perché sai ormai con i risultati anche che ho fatto negli ultimi anni in superbike italiano che poi magari se voglia ne parleremo magari in questo momento mi merito un'occasione in più però bisogna pagare e cosa che vorrei farlo se potessi non ce l'ho non riesco a farlo quindi cosa mi tiene in vita a me così tanto cioè che cosa mi dà l'opportunità comunque di fare una wildcard oppunque che tanti team mi vogliano perché tanta gente parla bene di me tanta gente scrive bene sotto i commenti di me ho tanti tifosi passami il termine non voglio paragonarmi veramente però ho tanta gente che mi vuole bene questo mi tiene in vita sicuramente anche grazie a un episodio come qua di Donnington ok specialmente perché l'episodio di Donnington è stato ok il gesto atletico ma un ragazzino in Inghilterra con una moto un po' difficile che fa quella roba lì come per dire ce la provo in tutti i modi do l'anima però voglio riuscirci partivo ultimo in quella gara ho fatto nono top ten ho passato chas davis all'ultimo giro e quello secondo me è proprio stato il simbolo della mia carriera cioè sto cadendo sti granchi sali sulla moto e vai hai capito tu non hai mai avuto un manager quindi a gestirti no non proprio non proprio non proprio anzi anzi appunto per quello ho sempre avuto gente che mi ha aiutato sempre poi chi più chi meno e all'inizio mio zio sembra aspetta all'inizio dei tempi mio babbo era manager meccanico e mi faceva da tutto e faceva tutto lui per me poi quando le cose sono diventate un pochino più serie il babbo deve fare il babbo e avevo bisogno di un aiuto esterno non potevo permettermi di dare dei soldi a qualcuno per farlo e mio zio che fa tutt'altro nella vita mi ha aiutato sembra una cavolata però in tre anni insieme abbiamo fatto un bel lavoro cioè noi siamo partiti all'italiano moto 3 e siamo arrivati al mondiale superbike cioè uno può dire quello che vuole stagione difficile tutto quello che ti pare però io dall'italiano anzi dal campione italiano super motard in tre anni ero in griglia in australia per il mondiale superbike perciò quante altre ne conosci sicuramente mi sono giocato bene tutti i jolly che avevo quindi test che ho fatto gare wildcard tutte opportunità giocate bene però anche alle spalle ho dovuto aver chi mi dava una mano proprio quest'anno ti voglio raccontare questa cosa proprio quest'anno ero a pranzo qua a casa mia di famiglia prima di andare a vedere la moto gp a misano quindi c'era moto gp misano era un sabato tipo e io dopo pranzo dovevo andare a misano per vedere la moto gp e avevo già il pass a casa no così ero già tutto pronto ed io pranzavo con mio zio e dicevo ma te ci pensi che tre quattro anni fa non tanto tempo fa andavamo a supplicare le monizane per avere un pass e andavamo fuori da tutte le hospitality senza che ci cagava nessuno a chiedere se qualcuno volesse parlarci per avere un'opportunità per fare la moto 3 o la moto 2 per fare qualcosa e a distanza di pochi anni in realtà mi invitano ok quindi con piacere ricordo queste cose capito e finito l'anno del mondiale ti si chiudono le porte di quella di quel paddock lì però vai al civ unica scelta praticamente giusto? sì o avevi altre possibilità? avevo altre possibilità nel senso che mi sarei piaciuto rimanere in giro per il mondo però anche lì è stato l'anno del covid quando sono tornato in italiano è stato l'anno del covid perciò erano trasporti tutto era impossibile fare qualsiasi altra cosa che non fosse l'italiano perciò poi io tra virgolette ho firmato con dmr e quell'anno di ritorno all'italiano superbike e ho firmato con loro tipo a giugno per farti capire capito perciò last minute bisognava correre io volevo correre perché ecco una cosa che a me non è mai mancata e non ho mai smesso di correre tanti altri miei coetanei colleghi hanno un momento che non va e smettono io non ho mai smesso e mai smetterò nonostante adesso può succedere qualcosa quindi non faccio l'italiano mini moto mini gp o moto 3 i miei amici sono al mondiale amen corro col pit bike con la vespa con quello che serve non posso fare mondiale superbike è uguale non smetto sicuramente di correre e quindi sono tornato all'italiano all'ultimo mancava tipo due settimane la prima gara al calendario ho detto non posso non correre dmr gli mancava il pilota uno più uno siamo trovati con bmw il primo anno bmw erano tre gare abbiamo fatto perché era il covid quindi abbiamo fatto solo tre gare abbiamo fatto purtroppo due cadute e gli altri tutti podi e quindi è stato il mio primo ritorno italiano positivo normale un bilancio normalissimo cadute ti senti o vieni considerato un pilota che cade spesso oppure sta cambiando ultimamente allora sicuramente perché ho letto qualche articolo le cadute sono un argomento un po' particolare nel senso che io sono sempre stato uno che mi sono appoggiato abbastanza volte non voglio giustificarmi perché o lo fai o non lo fai non è che c'è tanto da giustificarsi però quello che voglio dire dalla mia parte è che mi sono sempre dovuto mi sono sempre trovato in occasioni di all in ok quindi anche quando ho fatto le wild card anche quando ho fatto i miei anni di campionati non ero mai all'altezza della situazione lo stesso in stock mille che ho fatto i danni come la grandine però cavolo io ero un ragazzino il primo anno nella mille e non è che io mi bastava partecipare perché se io non io sono costretto a vincere perché se non vincono dopo devi pagare devo per forza portare il risultato quindi sapevo che ero stock mille ma sapevo che dovevo comunque fare il risultato però non conoscevo le piste non conoscevo il mille non avevo idee di quello che stessi facendo però andavo forte e quando vai forte se non hai tutto sotto controllo a volte cadi le cose ora stanno cambiando sicuramente l'anno scorso con dmr sono caduto in tutta la stagione testi inclusi tre volte sta cambiando perché cambia la situazione intorno cioè hai più ho più maturità hai più tempo per dimostrare quello che sei ho più chilometri alle spalle ho più chilometri alle spalle ho più maturità però anche qui io non mi sto trovando a correre con i miei coitanei mi sto trovando a correre contro in questo momento per esempio con Michele Pirro Michele Pirro è uno che mentre io in un anno faccio sei gare di italiano e circa due test barra tre inizio stagione poi tre test durante l'anno lui fa 40 giornate solo con la MotoGP fa la Superbike fa le gare fa tutti gli eventi cioè lui è veramente un pilota senza pensare al fatto che ha già fatto la MotoGP ha già fatto la Superbike ha già vinto in Moto2 quindi lui è uno che di esperienza ne ha tanta perciò non siamo sullo stesso piano in più ha un grande pacchetto tecnico ovviamente se lo merita vince ha vinto nove titoli è normale che lo debba avere e quindi io mi trovo sempre a dover lottare con chi magari non per criticarmi o per farla vittima hai capito però devi per forza se vuoi batterlo devi fare qualcosa in più qualcosa in più di quello che puoi qualcosa in più di quello che ti viene chiesto è normale che se facessi terzo o secondo tutte le domeniche non cadrei mai però se voglio provare a vincere cado per chiudere l'argomento cadute non sono uno e questo credo che lo possano dire tutti non sono uno che cade inutilmente cioè io è vero che sono caduto anche abbastanza anche l'anno scorso le tre cadute le ho fatte solo per giocarmi la vittoria cioè ogni caduta che sto facendo la sto facendo magari quando non serve anche quest'anno sono due volte con l'Aprilia due volte che ero primo quindi sono caduto sempre però solo per rischiare per andare oltre il limite non ho mai fatto la caduta stupida hai capito del sei uno che cade sempre prendo e vado per terra cado quando devo lottare contro chi ne ha veramente tanto quindi la tua strategia non avendo la valigia è devo dare il 110% sempre perché se faccio sempre quinto o sesto e non cado vale meno che fare primo ma no cioè qui purtroppo le corse ne vince solo uno il primo vince quello che ti può tenere in vita è chi come me in questo momento è aggrappato al primo cioè in questo momento pensi a Pirro ovviamente sono io dietro di lui perché sono l'unico negli ultimi anni sono riuscito sempre attaccare però per stare con lui sono sempre al limite sono sempre al gancio perché anche a fine gara anche se magari ho anche io il pacchetto tecnico come il suo 15 giri che sembrano pochi ma io li faccio sei volte all'anno al quindicesimo giro io oltre che sto scoppiando fisicamente ma hai voglia di correre a piedi hai voglia di andare in palestra bisogna fare dei chilometri in moto ma a parte quello quest'anno sono arrivato che fisicamente ero pronto ero preparato stavo bene di fiato però non conoscevo le gomme come reagivano al quindicesimo giro parti col pieno cosa succede quando la benzina sta iniziando a scaricare capito cioè sono cavolate sembrano cavolate come ti comporti alzare abbassare il trash in quelle robe durante il weekend durante la durata di gara a distanza sembrano cavolate però quando lo fai contro uno che lo fa al massimo come pirro l'errore può capitare quindi scusami quindi scusami quindi per rispondere alla tua domanda o paghi anche per fare italiano poco o tanto che sia o paghi oppure sei costretto a vincere o far qualcosa per far sì che tutti ti vogliano io non avendo mai avuto budget e adesso mi sto strutturando perché ho alle spalle delle persone che mi aiutano manager ho una struttura alle spalle negli ultimi anni ho gente che mi sta aiutando prima di questo momento non ce l'avevo perciò per rimanere in questo mondo costoso perché comunque le moto costano sono sempre stato costretto a vincere e ogni opportunità che ho sempre avuto in questi anni la scelta del team e della moto quanto ha pesato uno o l'altro cioè a parte l'anno del covid dove ovviamente quello che c'era hai preso e ti sei trovato comunque bene certo negli anni successivi la scelta di una moto e di un team è stata basata sulla moto o sul team o su entrambi cioè per te quanto pesa il valore della moto o del team nella scelta? allora devi partire dal presupposto però che ogni pilota ha la sua tecnica in pista sto parlando questo questo cosa vuol dire? come tu conosci bene Vitali è uno molto tecnico io nel mio sono uno che guida abbastanza sopra i problemi e non sono uno molto tecnico perciò magari alcuni piloti fanno determinate scelte in base a quella moto si adatta al mio stile di guida questa moto va forte nel rettilineo? non lo so io invece mi baso le scelte sul fatto che io sono abbastanza consapevole che su qualsiasi moto posso andare forte non mi sento questa angoscia non ho paura di non riuscire a dimostrare che vado forte perciò le mie scelte sono basate tanto su chi può aiutarmi per andare più forte possibile quindi non tanto la marca della moto ma che squadra c'è alle spalle con chi posso lavorare che può colmare questa mia parte da una parte positiva che guido sopra i problemi dall'altra parte però non sono così tecnico da sistemare la moto perciò dico chi c'è alle spalle che può aiutarmi a dare il meglio di questa moto e la terza cosa che in realtà è diventata la prima quella che in questo momento io sto guardando solo ed esclusivamente questo quali opportunità avrò a fine stagione? quindi il passaggio da DMRA ad Aprilia nel 2021 è stato nell'ottica del team squadra e poi il pacchetto comunque che è buono è stato in più sì l'Aprilia è una moto super valida per fare italiano ma lo è anche la Honda lo è anche la Yamaha cioè ormai le moto vanno forte tutte per il regolamento che c'è al CIV che comunque tutto è abbastanza livellato vanno bene tutte quindi ho scelto l'Aprilia per due cose la prima la squadra che avevo le spalle perché ho lavorato veramente con una squadra tosta mio ingegnere è MotoGP cioè gente veramente giusta che mi ha dato tanto e dall'altra parte sembra una cavolata però io in sela all'Aprilia con questa tuta qua sembrava veramente uno vero quindi anche l'immagine che ho dato di me quest'anno è cambiato tanto perché ero vestito bene in un certo modo con certi marchi addosso e comunque mi ha dato molta professionalità nel mondo delle racing in Italia a livello italiano io credo che a me non mi sia mancato niente nel senso che la mia moto era incredibile la squadra incredibile ero supportato ufficialmente ero supportato ufficialmente la mia moto era perfetta e dall'altra parte rispetto anche se a volte magari piangi piangi no perché Piro fa di più però io rispetto a tanti altri che fanno la super bike ero uno dei più fortunati perché comunque io ho fatto quasi un test tra ogni gara ho fatto quattro test quest'anno prima di iniziare al campionato che rispetto tanti altri e sono un privilegiato rispetto al mio diretto rivale e non ho girato mai quindi è normale che io non mi accontento mai di guardare ah ma faccio meglio di loro io guardo cosa posso far più di questo l'ultimo ostacolo l'ultima cosa che mi manca è batter Pirro rispetto a lui mi lamento perché lui ha fatto quello che ho fatto io per 10 perciò è normale che sì mi sarebbe piaciuto fare ancora qualcosa in più dall'altra parte però mi rendo conto che quest'anno ho fatto veramente tanto di fatti otto podi due vittorie eccetera ne è un po' la prova ma il tuo obiettivo adesso è ritornare al mondiale no? sì e la scelta del 2023 adesso ne parleremo è stata anche in ottica di questo sogno ma le scelte con Aprilio invece c'era anche questo obiettivo qui pur avendo una moto che non poteva accedervi oppure è stato perché dovevi correre e hai trovato un ottimo team perché volevi il risultato nell'italiano prima di passare al mondiale allora allora quindi mi stai chiedendo della scelta da Aprilia a Yamaha sì ok allora perché Yamaha c'era anche due anni fa esatto io di fatti l'anno scorso prima quando ero da DMR dopo il secondo DMR dovevo scegliersi andare dove vado e sembra una cavolata ma le mie scelte erano Aprilia e Yamaha però la Yamaha in Italia era appena arrivata con quel pacchetto tecnico lì e non era forse ancora l'altezza di un italiano cosa che poi mi sono sbagliato perché alla prima gara dell'anno anche Canep ha fatto dei grandi risultati però io appunto per lì solo dicevo prima che devo per forza portare il risultato da una parte sì guardo il futuro dall'altra parte però io dico aspetta io devo per forza vincere barra fare il massimo quindi comunque ho l'esigenza di avere un pacchetto che mi possa permettere di dimostrare quanto valgo perciò ho detto la Yamaha può supportarmi forse non lo so perché era appena avevo fatto solo qualche wildcard all'italiano quindi ho detto dall'altra parte la Yamaha mi può dare qualche opportunità in più però io ancora non ho le spalle così grosse da dire vabbè del bianco è una certezza perché avevo fatto ancora un solo anno così veloce quindi ero costretto a rimanere a scegliere l'Aprilia nei confronti di Yamaha quindi ho detto l'Aprilia è sicuramente una garanzia sono certo che su quella moto che vado andrò forte e così ho scelto Aprilia rispetto a Yamaha quest'anno appena trascorso ho visto come la Yamaha si è comportata come la moto va in pista e evidentemente mi sbagliavo cioè nel senso la moto in realtà è molto più competitiva di quello che mi potessi immaginare l'anno scorso e così ho detto come posso trovarmi in griglia Superbike nel 2024 e allora mi sono reso conto che in Aprilia purtroppo la moto non essendo omologata per la Superbike era sì un grande pacchetto tecnico però sodio esclusivamente per l'italiano io il prossimo anno potevo vincere con l'Aprilia anche tutte le gare che c'erano però per andare al Mondiale Superbike avrei dovuto cambiare squadra invece con Yamaha ho detto sicuramente il pacchetto tecnico è migliorato la moto è una moto che può vincere ha già vinto, funziona la squadra è sicuramente una squadra che ancora non ho avuto modo di conoscere tutta ma i nomi, tutti i nomi belli giusti, belli incassati e qui è l'unico posto dove ho veramente delle opportunità se mi comporto bene per emergere e per andare al Superbike considera che il 47% del paddock mondiale è blu perciò qui hai veramente tante opportunità dal Mondiale Superbike al BSB all'America al Giappone, alla Spagna, alla Francia qui se ti comporti bene se un ragazzo è educato, corretto e vai forte la strada la trovi e con Ducati non c'è stato mai un confronto? in realtà non ho mai avuto opportunità strane di andare con Ducati mi sarei piaciuto perché comunque è una moto ipervalida però col fatto che c'è già Michele Pirro lì non c'è stato... non c'è spazio c'è già lui, capito? Non c'è spazio e l'anno scorso dove hai perso delle gare per un... anzi, meno di niente sì come ti sei sentito? un po' beffato nel senso che... sono state due occasioni? ho fatto in fotofinish due occasioni, proprio a un millesimo cioè per due volte a un millesimo io mi ricordo con la gara l'ho vista alla tv di Vallelunga dove hai fatto un sorpasso cioè per chi non ama il corso a Vallelunga fare un sorpasso all'ultimo giro poi su Pirro al rampino di sinistra al tornantino al tornantino cazzo sì, più che altro perché l'ho passato cioè la linea l'hai tenuta a me piace il misto mi piace il misto e mi piacciono quelle cose lì quello che a me ha fatto piacere di quell'ultimo giro di cui parla è stato che ero a quasi un secondo da lui a inizio dell'ultimo giro quindi ho fatto tutto il primo e il secondo settore a recuperarlo e ho dato la vita, te lo garantisco e poi adesso mi devo buttare dentro e ci sono entrato ci sei stato, ci sei entrato e poi dopo sembrava quasi fatta e sai perché poi dopo ti ha fatto anche un controsorpasso lì della S e tu sei rimasto dentro all'esterno poi ho risposto dentro all'ultima curva alla Roma ci avevo sperato anche io ci avevo sperato anche perché avevo già perso per un millesimo due gare prima perciò ho detto cazzo, sono uscito primo all'ultima curva ho appena passato Michele Pirro all'ultimo giro, all'ultimo giro il traguardo è lì, lo vedo beffato e invece mi ha passato un'altra volta nel rettiline cioè sul traguardo e lì forse è uscito un po' l'anomia di quello che arrivi e poi dopo non non prendi esatto però alla fine io dico io dico no alla fine cioè un conto possiamo parlare di un sorpasso l'ultima curva Pirro mi passa per due volte all'ultima curva va bene bravo Pirro arrivi arrivi vai forte però non concretizzi però perdere per un millesimo e entrambe le volte sono uscito primo all'ultima curva c'è lì una monetina poteva essere la linea del traguardo qui oppure qui avrei vinto io hai capito? quindi dico lì è veramente una monetina hai capito? cioè più di così cosa devo fare hai capito? alla fine anno lì hai dato dentro negli allenamenti per questa cosa qua cioè a livello emotivo per un pilota comunque vincente come sei tu brivido di freddo ti dà la carogna per l'anno dopo ma io c'ho sempre carogna non ti cambia? no a me non mi cambia cioè alla fine io ho proprio voglia di vincere sempre in ogni caso cioè che sia ieri ho girato con le legend in pista e per me l'approccio era lo stesso a quando vado a fare una gara di campionato io mi piace mi piace la competizione perciò non è che vengo sbeffeggiato da Pirro e mi impegno di più cioè io mi impegno sempre al massimo quindi la prima vittoria di quest'anno è stata comunque una liberazione è stata una liberazione perché ecco quello che l'anno scorso un po' mi ha pesato è stata sta roba qua che staccavo di vittoria non arrivava non arrivava non arrivava non arrivava cioè a Vallelunga nell'altra gara sono caduto e fatto secondo perciò ormai il secondo era una roba che potevo fare spesso la vittoria se fai secondo potrebbe essere abbastanza vicina anche per sbaglio dicono e invece per due volte perdo per un millesimo per altre volte sono davanti succede qualcosa quindi dico quello che mi ha iniziato a pesare è proprio pensavo di avere una maledizione a Misano la prima gara dell'anno di quest'anno con l'Aprilia mi presento sono primo a 4 secondi di vantaggio dal secondo mancano 3 giri alla fine sto già pensando a cosa dire dopo la gara inizia a piovere alzo la mano non fermano la gara faccio un altro giro alzo la mano non fermano la gara cado sulla riga bianca sul bagnato con le slick cioè non poteva piovere 3 minuti dopo non potevano fermare hanno fermato la gara al giro dopo in cui sono caduto al penultimo giro cioè non potevano fermarla in quel giro dove hai capito quindi dico non una maledizione però non mi è proprio andata benissimo questa prima vittoria ma l'ha lasciato con un po' d'angoscia e poi per colpa mia di questa angoscia ho buttato via le seguenti occasioni e rientri al mondiale come sostituzione degli infortunati come sono state per te cioè sono state ovviamente casuali però per esempio con la Honda come l'hai vissuto come un'opportunità per farti vedere o vado perché ho bisogno di andare e come va va allora volevo tornare al mondiale superbike per capire a che livello fossi nel senso è normale non è che prendi io ti dico questo esempio nel senso quando compri il gioco per la playstation moto gp o superbike che sia e fai nuova carriera inizi la carriera prendi l'ultima moto che c'è e poi piano piano fai carriera qui uguale prendi l'ultima moto che c'è tra virgolette e poi devi fare carriera perciò io ero coscienza del fatto che non avrei mai preso una moto per fare un risultato però volevo vedermi in griglia di nuovo del mondiale superbike per capire per capire come stava il mio cervello in pista perché prima l'avevo vissuto un po' da appassionato e invece con piacere ho visto che ero a moste l'unica pista che poi non conoscevo anche lì ho fatto già un anno di mondiale superbike le piste le conoscevo tutte ne aggiungono una vado a fare la wildcard in quella che non conosco su una moto che non conosco però lì mi sentivo bene cioè mi sentivo ok lo posso fare ci credo lo posso fare in qualifica ho fatto la miglior qualifica del team Moriwaki e quello per me è stato un bel modo di dire mi metto in luce e poi quest'anno con il team Pedercini si è stato sfigato anche lì quest'anno uguale il team Pedercini vado a fare la wildcard lo carichissimo in FP2 perché FP1 l'ho saltata FP2 entro al terzo giro sulla Kawasaki in moto che non conosco faccio 35 a Misano ne metto dietro 6 o 7 del mondiale superbike dico cavolo moto che non conosco ci sono posso farlo cioè l'ho fatto e mi sono sentito bene capito finalmente poi la moto purtroppo non è più partita non si è più accesa weekend finito che mi ha lasciato un po' con la mano in bocca perché volevo vedere a che livello fossi mi sarebbe piaciuto vedere a che livello fossi pista che conosco eccetera però dai mi ha fatto tutta esperienza alla fine tutta esperienza e a fine di quest'anno come c'è stato l'interessamento di Yamaha avevate già parlato durante l'anno l'anno scorso oppure avevamo già parlato l'anno scorso io ho BNP Tappi che è un mio sponsor che lui lavora a stretto contatto con Yamaha lavoro per la riding school che è Yamaha di Pedersoli quindi avevo delle avevo un sacco di persone che mi tiravano nell'ambiente Yamaha in più Yamaha con piacere ci avevo parlato tutto l'anno scorso e c'era già stato un bel interessamento quest'anno ho iniziato a rendermi conto e dire ormai sono il mondo lo sa che dopo Pirro ci posso asserire in questo momento quindi ormai vado forte devo massimizzare questa cosa perciò Yamaha era l'unica occasione secondo me di poter avere un'opportunità e sei arrivato adesso che da ieri o dall'altro ieri sei un pilota a tempo pieno esatto da due giorni a questa parte sono un pilota a tempo pieno ho firmato il mio primo contratto vero quindi un contratto da pilota e questa è una cosa di cui sono molto orgoglioso e quindi ora è il momento di tra virgolette non trovare scuse e pedalare soltanto hai programmato qualcosa di diverso nel tuo allenamento nella tua routine allora adesso che ti senti un pilota tutto non arrivato ma un pilota vero guarda io ti dico questa cosa ho appena fatto una scelta di vita nel senso che ho finito la stagione e mi sono detto cosa posso fare per migliorarmi il prossimo anno a fine gara faccio fatica con Pirro perché lui è più sul pezzo di me lo è perché fa tanti chilometri amen cosa posso fare per colmare questo gap allenarmi ancora di più io abito a Cattolica a Cattolica è un composto dove ho la mia vita i miei amici quindi spesso dai usciamo facciamo questo facciamo quell'altro quindi ho detto voglio giocarmi il tutto e per tutto cioè non posso non avere un'opportunità vera ho questo brutto di andare all'italiano con la Yamaha vedo la luce vedo la luce vedo un porticino una porta aperta per il mondiale superbike non posso non far di tutto voglio che l'anno prossimo a fine anno non voglio avere rimpianti per farlo ho detto stai a sentire mollo tutto mi trasferisco sono un'ora da casa mia abito a Senigallia adesso ho cambiato palestra per non avere distrazioni cioè cambi non conosco vado in un posto dove non conosco nessuno a parte saltarelli con cui mi alleno sono stato lì apposta vado nella sua palestra mi alleno con un altro pilota vado in moto vado a dormire mi alleno mi alleno mi alleno quando posso vado in moto e non faccio altro una vita da sogno sembra in realtà è una vita anche di sacrifici perché ovviamente non faccio nient'altro che quello e quindi voglio veramente dare il tutto e per tutto per dire tra due anni ci ritroveremo in questo garage a parlare sarò al mondiale superbike è andata bene tra due anni ci ritroveremo in questo garage a parlare che sono ancora italiano sarà andata bene in ogni caso perché quando mi guardano indietro non avrò rimpianti cioè io dico più di così non potevo fare hai il contratto di un anno? sì c'è qualche opzione per fare una wildcard quindi? credo sia presto parlarne nel senso che sicuramente qui so che c'è cioè io qui c'è la possibilità c'è la possibilità non ne ho ancora parlato concretamente però è normale che la voglia c'è quindi durante i mesi che verranno la cosa che voglio la cosa che voglio specificarti però è che sicuramente dovrò mantenere solamente l'attenzione sull'italiano perché comunque il futuro il tuo obiettivo quest'anno è vincere ti dico di sì però è presuntuosa come cosa insomma è normale due anni che fanno secondo il primo anno ho fatto il primo anno ho fatto 130 punti da Pirro il secondo anno quest'anno 11 è normale che ogni anno migliorandomi ho piacere di vincere il prossimo anno e parto per vincere il rapporto con Pirro com'è? il rapporto con Pirro è di rispetto fondamentalmente perlomeno io nei suoi confronti tantissimo e credo anche lui nei miei lo reputo non lo dico perché c'è la telecamera ma lo dico a tutti lo penso davvero lo reputo un grande campione e io in primi sono grato a lui perché lui mi sta facendo quella scuola che mi manca cioè lui proprio mi aiuta lui nelle gare a distanza mi aiuta se non ci fosse lui probabilmente avrei vinto 20 gare benissimo però non sarei la persona che sono adesso invece adesso ho le idee chiare perché grazie a lui mi ha fatto capire che posso farcela gli 11 punti per il quale sei arrivato secondo quest'anno sono hai già capito dove vuoi arrivare ho fatto due errori del cavolo quest'anno no non sto parlando dei tuoi errori sto parlando degli errori di Pirro perché il primo anno dove l'hai messo veramente o c'è stato qualcuno che l'ha messo veramente alle strette del primo anno dove ha fatto qualche errore in più del solito sì e questi punti qui li ha presi in situazioni diciamo borderline anche a livello di regolamento dove tipo a Mugello è rientrato con la moto che sembrava che avesse fatto una gara di enduro allora i commissari lo volevano tirar fuori e poi al fine è riuscito a rientrare ha preso dei punticini guarda io ti dico hai mai fatto il conto di questi no però te lo devo dire guarda ti sto dicendo di fatti sicuramente in tanti mi dicono di fare una botta di conto di quanti punti potesse aver preso facendo queste cose e ti dico ormai è andata così e non mi interessa neanche più di tanto più che altro mi sarebbe interessato il momento in cui io avessi fatto il massimo in tutto e poi comunque lui grazie a queste piccole cose avrebbe vinto in realtà il campionato l'ho buttato via perché lui ha fatto due errori e io quando l'ho fatto due errori ho fatto due errori anche io lui è caduto davanti al Mugello e poi io sono caduto a Misano lui è caduto e io sono caduto col bagnato per un motivo o per un altro però il campionato veramente io l'ho buttato via lì perché lui poteva anche riprendere in mano la moto e finire la spinta con la moto sulle spalle se io avessi vinto tutte le gare ci sarebbe poco da parlare capito? e del regolamento del CIV cosa ne pensi? rispetto al tuo obiettivo poi delle wildcard del mondiale o di arrivare al mondiale che c'è un regolamento dove le moto sostanzialmente sono molto diverse dalle gomme esatto alla ciclistica e quant'altro allora faccio ho due pensieri in questo momento allora sicuramente è un peccato perché il CIV secondo me è valorizzato abbastanza il ticket a pagamento a 5 euro non so cosa serva quando in realtà basterebbe aprire le porte per dare valore al CIV che sarebbe pieno di visibilità la gara a pagamento mi sembra veramente su un sito che non funziona mi sembra veramente una follia il fatto del regolamento della superbike strettamente superbike ho due modi di vederla perché ti dico da una parte la Mottec aiuta perché se non ci fosse la Mottec ci sarebbero alcuni team con le tasche piene che avrebbero delle moto da superbike e altri con delle moto normali come era fino a 2-3 anni fa dall'altra parte dico anche che se non ci fosse la Mottec sarebbe un monomarca Ducati perché la moto che pronti via la prendi i magneti marelli funziona perciò la Mottec fa sì che livelli un po' tutte le moto e questa è una cosa che non mi dispiace dall'altra parte le Dunlop a me come gomme piacciono tanto però purtroppo questo è vero se l'abbiamo solo l'italiano non è più una categoria che ti proietta al mondo delle superbike parlando anche di Yamaha loro stati chiarissimi hanno detto guarda se noi dobbiamo prendere un pilota non lo prendiamo dall'italiano lo prendiamo dal BSB che corrono con le moto come le nostre al mondiale lo prendiamo già pronto praticamente prendiamo un pilota che sale conosce già il mezzo deve solo abituarsi un po' alla categoria nuova invece l'italiano no mi hai pensato di negli anni non so se c'è mai stata possibilità o meno di andare nello spagnolo nello BSB quest'anno c'era una possibilità concreta però ormai dove spagnolo BSB americano ne ho vagliate tante di proposte però ormai credo che la mia strada sia chiuderla qui cioè nel senso non chiuderla per sempre qui però credo di provarci ancora un anno cioè io mi sono andato due anni di tempo ancora ho detto nella mia vita vorrei fare il pilota questo mi piacerebbe a tutti piacerebbe però ormai sento che ho veramente l'opportunità di fare il pilota perciò nella mia vita voglio fare il pilota come faccio a farlo? io voglio fare il mondiale superbike per fare il mondiale superbike secondo me devo rimanere all'italiano perché ormai ho preso questa strada e provare a vincere se questo non dovesse bastare io credo che entro due anni di emigrare da qualche parte di emigrare in America fare il campione americano fare qualcosa del genere perché dico correre in moto almeno faccio qualche opportunità perché correre in moto per andare 300 giorni all'anno in palestra ad allenarmi e 30 in moto non mi sento tutto sto pilota alla fine dell'anno hai capito? quindi mi piacerebbe andare in un posto invece dico dove almeno giro un po' di più magari guadagno un po' di più che anche questo è un valore che comunque non è da sottovalutare e dall'altra parte dove mi faccio delle esperienze di vita perciò mi do due anni di tempo e credo di rimanere qua all'italiano non so se per due anni ma so che devo rimanere qui battere il ferro qui sono italiano spingere dimostrare e averlo portato ad andare al mondiale se dovessi farlo che sono sicuro di riuscire comunque a migliorarmi ogni anno non dovesse bastare allora emigrerò io ti ringrazio per la disponibilità a te prima di lasciarci voglio questo è il mio casco sì e secondo me è diventato un souvenir fa come fa vedere ma dove hai battuto? San Donato a X-Side in staccata ho voluto esagerare un po' nel sorpasso e quello davanti mi ha chiuso e mi ha portato via la moto da sotto e ho fatto un bel un bel capitombolo e ci ho lasciato il casco il gomito un po' di cose e quindi ormai è un bel souvenir bello tra l'altro quindi praticamente questo qui lo chiameremo il casco come si chiama questo format? eh non so ne ho ancora dato il nome due chiacchiere in garage e con tutti i piotti che intervisterai bene fa molto piacere vado tosca oro o nero nero un bel autografo beh vitali però perché è bello egocentrico al centro grosso non essere così ma mi metto qua in disparto dove c'è il crash per rimanere un tema di prima ti piace cosa ne dici? perfetto bellissimo grazie mille grazie a te quest'anno l'altro pilota che seguirò al CIV sarà Ale e vi faremo vedere come lavora nel box quindi ci vediamo nel box va bene? va bene ci vediamo al box grazie Ale grazie a te anche a te